Guido del mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Solier Questa serata grandissima passione, grandissima emozione perché basta pensare a Caruso che per noi è il più grande cantante mai esistito e che già uno comincia a tremare è una grandissima responsabilità per me, è una grandissima responsabilità per Vittorio la cosa più importante è di far passare le grandi emozioni della musica al pubblico Io sono un po' di parte ma è stata una seratona innanzitutto perché Vittorio Grigolo ha acquisito oltre alla esuberanza che ha sempre avuto ha acquisito una tecnica di canto veramente solidissima forse attualmente il miglior tenore del mondo secondo me Daniel lo conosciamo, conosce a memoria tutte le pieghe del melodramma speriamo che stasera tra tutti e due siamo riusciti a fare un completo omaggio a Caruso sotto tutti gli aspetti musicali e umani grazie 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 Grazie.